LA Regina potrebbe dover annullare il suo tradizionale natale alla tenuta di Sandringham per il secondo anno consecutivo a causa della variante Omicron, la prossima settimana, la monarca trascorrerà il suo primo natale senza il defunto marito, il principe Filippo, morto nell'aprile 2021 all'età di 99 anni. Mentre l'ondata della variante Omicron continua nel Regno Unito, la famiglia reale potrebbe scegliere di non incontrarsi a Norfolk in quanto era abituato prima del Covid-19. Sebbene le restrizioni del governo non impediscano alle famiglie di riunirsi per Natale, la regina potrebbe scegliere di dare il buon esempio, secondo The Telegraph. Una fonte ha detto al quotidiano che tutte le opzioni sono ancora allo studio per quanto riguarda i festeggiamenti. Secondo i dati ufficiali del governo, ieri sono 90.418 le nuove persone che hanno avuto un risultato positivo confermato al test, il che significa un aumento del 44,4% dei contagi rispetto ai sette giorni precedenti. Hanno aggiunto che uno scenario possibile sarebbe che la regina rimanga al castello di Windsor come ha fatto l'anno scorso, un'altra possibilità sarebbe un Natale in famiglia più piccolo nella tenuta di Norfolk, come al solito, ma senza i sostenitori invitati a unarsi fuori Sandringham come da tradizione. La regina ha trascorso quasi ogni Natale della sua vita a Sandringham. Di solito vi rimane fino al 6 febbraio, anniversario della morte del padre. Punto punto. La regina dovrà anche riconsiderare la visita annuale alla chiesa di Santa Maria Maddalena che potrebbe essere un evento super diffusore del virus. Il principe George e la principessa Charlotte si sono precedentemente uniti ai loro genitori per il servizio, mentre il principe Louis avrebbe fatto il suo debutto quest'anno, tuttavia, la regina non trascorrerà il Natale da sola. Molti dei suoi figli e nipoti hanno ridotto il loro contatto con altre persone e verranno sottoposti a test prima di unirsi a AHM. Secondo quanto riferito, il personale è pronto a lavorare in un sistema quasi a bolla simile a come si è organizzato durante il blocco per garantire che la regina rimanga al sicuro.